Un saluto al gruppo AS di Bicicualiano, ai nostri amici Batman Crew, Raffaele De Quino, Tummo Lindo, Qualcuali Guarini e tutti gli altri, se dimentico qualcuno scusate, Gli vogliamo bene, Oggi indossi la veloca, mi sarebbe piacere che stessimo tutti quanti in firme, però abbiamo orari diversi, percorsi e allenamenti diversi, ognuno vuole, chi vuole ritornare prima, chi intende niente da fare, sordi tu, come me, ti senti? Abbiamo nessuno già sentito, questo era il serante che, quindi oggi sono avuto il sequestro della bici da parte di mia moglie, quindi, un saluto alla famiglia di ghiaccio, un abbraccio, vi vuole bene, vi vuole bene. E' davanti a lui la potenza del ciclo, la potenza, il potente, i tir, i tir della strada, con forma di ghiaccio. Si, quello trasportato... Mentre qui sulla mia, adesso, sta parlando la motocicletta. Quello è il camion, è la prima che trasportato, è un fantastico, questo qua che ha dipinto avocati, non di sagge. Che trasporto, che trasporto. Trasporto eccetera, quando cammino, si visita davanti a te, dietro hanno il cartello scritto un trasporto eccezionale perché loro sono sono eccezionali come uomini a parte gli stessi voglio bene a Fabrizio e a Rosario noi ci stanghiamo e ritiamo e stiamo bene poi domani domani è un altro giorno ok via col vento e dopo ci aggiorniamo fra poco sulla strada che ci porterà a Caivano ok a dopo Francesco Francesco anche la pioggia si ferma qui che siamo in questo paese attraversiamo Caivano e poi sono andato al mare e poi sono andato a me adesso il contrario noi noi perdiamo acqua senza pagare le strada senza le fine senza ombre tutto aspettate cosa vi perdete in un'uscita di bicicletta è a costo zero è la cosa importante è a costo zero a costo zero dopo che ci abbiamo fatto il bagnetto ci stiamo andando a scivare vedete andiamo a casa mangiamo andiamo a casa e poi ci riposiamo già siamo docciati docciati si docciati e bello abbiamo risparmiato l'acqua acqua pulita soprattutto naturale biophilizzati ok